Invito tutte le comunità a vivere con fede l'appuntamento del 23-24 marzo per riscoprire il Sacramento della Riconciliazione, 24 ore per il Signore. Auspico che anche quest'anno, tale momento privilegiato di grazia del Cammino Guarissimale, sia vissuto in tante Chiese del mondo per sperimentare l'incontro gioioso con la misericordia del Padre che tutti accoglie e perdona. Grazie a tutti.